Ciao da Monica delle Maestre Cubetti. Abbiamo appena piazzato il nostro creatore di composto, lo apriamo e proviamo a inserire sei atomi di idrogeno e sei atomi di carbonio. Cosa otteniamo? Otteniamo il benzene. Il benzene è un idrocarburo e è un costituente naturale del petrolio. Ha delle proprietà solventi, quindi viene utilizzato nell'industria chimica e è poco solubile invece in acqua. Sapete che è considerato una sostanza altamente cancerogena, quindi è meglio maneggiarlo con cura.